eccoci ragazzi finalmente con un'altra recensione dopo qualche tutorial che abbiamo visto nelle puntate precedenti oggi andiamo a vedere la recensione finalmente di un'altra console che cosa vediamo oggi oggi vediamo un game boy color non è una una console da emulazione del nostro game boy color classico però come vedete c'è qualcosa di diverso perché perché finalmente è uscito per il game boy color la modifica con lo schermo del game boy classico quello che avevo recensito qualche tempo fa la rips v3 cioè v5 è questa qua il fatto che vi sembra magari un pelino più grande perché effettivamente è un pelo più grande ma non tanto lo schermo che lo schermo è lo stesso medesimo che c'è qui dentro quanto la cornice stessa che qua è un pelino di un millimetro più ridotta rispetto a qui ma cosa di particolare questa versione rispetto al nostro classico game boy color beh guardate voi stessi allora come vedete lo schermo qua è decisamente più grande si parla sull'ordine del 15 per cento di spazio in più che ricopre lo schermo rispetto al game boy color classico la differenza è solo questa no questo game boy adesso finalmente ha uno schermo retroilluminato rispetto a questo qua che è dal nostro game boy classico il lo schermo del game boy classico non aveva una retroilluminazione e era abbastanza cioè molto bello per carità a livello proprio di di schermo in sé ma il fatto che gli mancasse la retroilluminazione diventava molto deficitario per questo tipo di console perché se non la guardavi davvero diretta sotto il sole era molto molto difficile da da vedere quindi insomma quasi più difficile vedere questo schermo qui rispetto a quello del game boy classico ma procediamo per via per gradi dicevamo che adesso finalmente è uscita questa mod ma io vi avevo fatto vedere una modifica precedente che era questa questa che è il nostro game boy light game boy color color light era un'altra modifica schermo del per lo schermo del game boy però aveva uno schermo decisamente differente molto più piccolo come vedete ma addirittura più piccolo rispetto allo schermo del game boy classico infatti se vedete lo schermo era nell'ordine di due millimetri se non di più per lato più piccolo ecco queste sono le tre variazioni diciamo del game boy game boy classico game boy light che appunto game boy color light light diciamo non è il game boy light ma color light è stato chiamato così per definirlo che è un game boy colorato c'è un game boy illuminato scusate e poi questa qua che è l'ultima versione allora vediamo un attimo com'è accesa questa console cerchiamo un attimo di capire perché è così bella particolare innanzitutto accendiamo la nostra console ok allora adesso qua vedete ho messo su una flash quindi una una card card reader cioè una cartuccia che mi permette di flashare direttamente le rom e quindi dentro c'è una schedina sd questa come vedete anche la shell la cover è stata cambiata questa è una cover trasparente verde che ha una particolarità ma ve la farò vedere dopo e lo schermo andiamo intanto a cercare una rom come vedete qui non ne ho parecchie e questa è la rom di super mario land 2 colorata quindi questa è un'altra cosa particolare è una versione colorata perché non è mai uscito colorato infatti vedete dx è una acrom a chrome scusate fatta appunto per lo schermo a colori del game boy come vedete del game boy color come vedete appunto tutto quanto è stato ricolorato allora intanto avete visto una particolarità noi possiamo comandare diversi parametri su questa console la luminosità semplicemente col tocco è una modifica che ho fatto io quindi appunto quando voi andate ad aprire il vostro game boy c'è un pannello che andrà installato il pannello quello dello schermo poi c'è un'altra scheda una scheda madre dello schermo che poi questa andrà a sua volta collegata alla scheda madre alla board principale del game boy e poi ci sono due cavetti due cavetti che si vanno a innestare che andranno messi qua come vedete qua ce n'è uno e qua c'è un altro vedete queste cose ramate ecco questi sono dei sensori touch ok per comandare diversi tipi di parametri uno questo è la luminosità e come vedete la luminosità aumenta man mano che noi la tocchiamo ci sono dire dieci livelli diversi di luminosità adesso cerchiamo di metterne uno che sia un po più visibile anche ok in video e poi ci sono altre funzionalità tenendo premuto per esempio a lungo tenendo toccato a lungo il touch qui se noi andiamo a toccare a lungo allora intanto vedete la particolarità di questo schermo è che ha la funzione retro pixel significa che se voi fate caso e guardate bene il pattern del dello schermo è tutto quanto pixelato e tutto quanto a quadretti vedete sono dei quadrettini ok che rendono un po l'effetto pixel infatti abbiamo un pixel perfect ma se noi andiamo a a premere a lungo questo pulsante touch qua sopra allora no scusate allora toccare a lungo questo pulsante touch fa comparire un'altra cosa ossia adesso vi faccio vedere vedete qua in alto a destra il controllo della batteria e questo qua mi permette di capire oltre al nostro classico led rosso quant'è il livello della batteria del nostro game boy noi andiamo a toglierlo sempre facendo il nostro pressione a lungo e poi andiamo a vedere che cosa succede quello che vi dicevo appunto dell'effetto elettro pixel di qua però ok schiacciamo quindi a lungo da questo lato vedete che sparisce il pattern pixel ecco ora non c'è più ora è tutto quanto molto più uniforme non c'è più il dot matrix quindi appunto quella quell'effetto pixel che vedevamo prima ma è uno schermo molto più moderno perché la risoluzione di questo schermo è molto alta rispetto a quella che era la risoluzione originale per cui per rendere l'effetto pixel bisogna attivare questa funzione quindi schiacciando a lungo noi vedete ritorneremo ad avere il nostro effetto pixel a scapito magari di un po della luminosità perché ovviamente si andrà a inserire all'interno della dello schermo una griglia perché non è che in realtà sono veri e propri sono veri e propri pixel cioè si sono pixel ma è una griglia che viene messa in sovrapposizione al nostro schermo ma l'effetto che rende è veramente veramente ottimo quindi come vedete è davvero davvero ottimo l'audio non l'ho neanche acceso però noi il nostro classico audio è questo ecco questo è l'audio originale del nostro game boy color esistono mod anche per cambiare quello ma vediamo un'altra cosa rientriamo adesso qua dentro e vediamo un'altra cosa perché io vi ho fatto vedere la funzione del cambiare la paletta cioè di cambiare l'effetto elettropixel ma se io schiaccio a lungo cioè se schiaccio più volte questa parte dello schermo ho un'altra funzionalità e ossia come vedete posso cambiare delle palette di colori come un po' succedeva nel nostro classico game boy che abbiamo qua che vi avevo fatto vedere nelle altre recensioni come vedete avevo cambiato perché qui avevo il menu e come vedevate potevo cambiare anche qui il nostro i nostri colori dello schermo la differenza però qua sta nel fatto che noi applicheremo una tinta colorata sul colore e quindi non è lo stesso effetto però però c'è un però se noi andiamo più avanti e andiamo qui ecco vedete abbiamo un pattern c'è un una palette cromatica grigia grigia come quella che abbiamo qui vedete quindi questo mi va ad azzerare totalmente i colori e questa è una cosa buona perché comunque sia se voi volete giocare a un gioco game boy classico non colorato non con la funzione di color che faceva il game boy perché se voi sapete avete avuto un game boy color sapete che i giochi del dmg questo venivano colorati con a schermo quindi non è che lo schermo riproducesse un gioco in bianco e nero ma lo riproduceva comunque sempre colorato e in questo caso noi possiamo ritornare a giocare i nostri classici giochi senza colore ecco vedete qua noi stiamo giocando a questa rom che è colorata come vi avevo detto modificata però schiacciando facendo utilizzando questa palette cromatica riusciamo a ritornare a giocarla come era prevista quindi super mario land 2 torna ad essere in bianco e nero riprendiamo un'altra volta ed ecco che ritorniamo ad avere i nostri colori poi niente il resto del game boy è molto semplice non c'è assolutamente niente di innovativo oltre allo schermo forse una sola cosa il fatto che questa è una shell che però vabbè troverete di sicuro anche da altre parti e per altre console quali anche il dmg ma è una shell che è è fluorescente infatti adesso vi faccio vedere le immagini che ho girato poco fa dove vi mostro al buio che effetto fa come vedete il lo schermo tutto quanto il game boy è fluorescente al buio quindi assume questo colore verdastro e questo è molto bello perché tutto quanto il nostro game boy diventa luminoso anche al buio non vi preoccupate nel senso che ha un effetto che sparisce gradualmente nell'arco della serata mettete voi state giocando la sera vi da fastidio questa grossa luminosità in un quarto d'ora va scemando non vi darà mai così tanto fastidio però appunto è una cosa simpatica io ho voluto prenderla così perché mi piaceva un sacco e altra cosa da dire di questo game boy è il fatto che la mod prevedeva anche una saldatura di alcuni punti sulla board principale quindi alcuni cavi andavano collegati alla board facendo delle microsaldature è una cosa che però non è indispensabile perché? perché serviva unicamente per permettermi di comandare il nostro menu quello che abbiamo qui se io schiaccio a lungo ed ecco vedete questo mi permetteva di comandare questo menu qui tramite i pulsanti noi adesso qui non abbiamo la possibilità di comandarlo tenendo premuto questo qui che è la rotella che andava a sostituire in questo game boy totalmente la board principale qui la board rimane uguale è la stessa medesima per cui andavano saldati i cavi sui pulsanti e sulla croce direzionale e su start select in modo tale che con una pressione contemporanea di alcuni pulsanti io potessi accedere al mio menu però dal menu io potevo uno controllare la posizione dello schermo questo sia una cosa carina però come vedete basta fare attenzione si riesce a centrarla perfettamente e due potevamo andare a controllare quella che era la quelli che erano aspettate un attimo come che si faceva qui ah sì e gli altri vedete batteri pixel 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 e colorare lo schermo cioè cambiare i colori dello schermo cosa che io qui per esempio avevo fatto e vi avevo mostrato no con la paletta cromatica del dmg questa o la palette cromatica del game boy light questa qui che ho fatto io poco 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 fa questo non serve assolutamente qui perché come vi avevo mostrato cambiare la palette cromatica non va a fare altro che sostituire cioè applicare un filtro sopra ai colori per cui avere questa cosa in più non è molto sensato e ad ogni modo anche se fosse come vi dicevo a mio parere il game boy color è fatto per giocare con i giochi del game boy color e non con i giochi del dmg se avete un game boy classico ha senso comprare la modifica questa qui per il game boy classico e sfruttare questa e giocare con i giochi in bianco e nero qui e non qui e un'ultima cosa che volevo farvi vedere era la differenza tra questo schermo e quello del game boy che avevamo visto nella recensione precedenti e come vedete appunto lo schermo sempre colorato andiamo un attimo dentro nel nostro gioco ok vediamo di trovare la stessa cosa anche lo stesso identico gioco solo per fare un paragone ulteriore troviamo lo stesso identico gioco anche questo cos'era donkey kong land 3 vediamo se ce l'abbiamo game boy color donkey kong ah no attenzione però questo è un gioco per game boy normale è stato colorificato come vedete no qua siamo sulla c scusate eccolo qua ed eccolo esatto a voi la differenza potete vedere voi stessi che giocare su uno schermo del genere è decisamente molto meglio anche per le nostre diottrie rispetto a giocare su uno schermo del genere è decisamente molto meglio anche per le nostre diottrie su questo schermo qui un'altra cosa è che aspettate com'è che si faceva ah si qui il sensore è stato posizionato qui e questa è la luminosità massima questa non è la luminosità massima invece perché se noi andiamo agire allora uno due guarda cinque sei sette nove dieci questa è la luminosità massima c'è una bella differenza c'è una bella differenza un'altra differenza è che comunque sia nel momento in cui questo schermo qui noi andiamo a premere per far per spegnerlo del tutto non lo spegniamo mai del tutto rimane sempre leggermente illuminato retroilluminato mentre invece questo qui aveva la capacità di spegnersi andiamo vediamo sisco ecco si spegneva totalmente lo schermo quindi diventava proprio come uno schermo senza luminosità come quello del classico gameboy color e sì questa era una cosa diciamo carina perché poteva far risparmiare un sacco di energia quando noi andavamo a giocarlo sotto la luce del sole però vi assicuro che purtroppo anche sotto la luce del sole non è che fosse granché visibile questo tipo di schermo perché non è lo schermo studiato per essere giocato senza totalmente senza luminosità quindi un minimo di luminosità serviva comunque e qua non avevamo l'effetto retro pixel cosa che qui abbiamo assolutamente quindi vedete voi stessi la differenza niente secondo me non c'è paragone questa è la mod perfetta decisamente perfetta per il gameboy color se voi cercate un un gameboy color cercate una modifica finalmente definitiva che vi permetta di giocare e divertirvi con il vostro gameboy ovunque che siate sotto la luce del sole che siate a casa al buio la notte eccetera eccetera questo è quello che fa per voi non è difficile da montare perché non c'è niente da saldare ci sono questi due cavetti dovete solo fare un po' di attenzione nel momento in cui andate a ordinare il kit io vi lascio il link in descrizione qua sotto nel momento in cui andate a ordinare il kit c'è anche la possibilità di ordinare la shell direttamente da loro da questo venditore e la shell è già pretagliata perché per alloggiare questo schermo bisogna un po' allargare la cornice interna sotto quella dello schermo cioè sotto questo schermo qua che copri schermo che è in vetro bisogna allargare quella lì però viene già fatto e viene appianato invece i perni quelli che servivano per tenere fermo lo schermo nel nostro classico gameboy quindi perni che stavano sotto quelle cornici interne vengono tolte e quindi poi tutto viene fissato con una pellicola adesiva che loro ti faranno ci faranno ci faranno avere basta non c'è altro da dire consigliatissima modifica la migliore insieme a quella per il gameboy classico fatevi questo regalo se avete dubbi su installazione eccetera eccetera potete tranquillamente anche contattare il venditore quello che me l'ha venduto su aliexpress perché è sempre molto disponibile e poi comunque sia ci sono sempre sul sito sul suo store ci sono tutte quante le indicazioni su come installare il e quindi sui vari vari tutorial su come fare però vi ripeto non è non è un se sono riuscito a farlo anch'io riuscirete a farlo anche voi non diventerete di sicuro matti niente con questo è tutto se vi è piaciuto il video ragazzi mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella che si trova qua sotto che così a ogni video che pubblicherò verrete notificati del video che sarà stato messo in onda e appunto noi ci rivediamo alla prossima recensione ciao a tutti grazie